Buongiorno, sono Lorenzo Maggini, sono il general manager di Fontanarte e vorrei presentarvi qualcosa dei nostri prodotti Il primo è l'Equatore di Buratti Brada e qui potete vedere l'Equatore è la linea che divide la terra in due parti uno in diretta e uno in diretta in questo modo è l'Equatore un'Equatore che è un luogo emplice dove il volume è l'Equatore che è dentro di queste funzioni dove c'è una grande attenzione nei dettagli come potete vedere, questo è un caccio di blu questa è una textura davvero riche è fatta in galvanizzazione di coppa è tutto metallo e hai anche controllo della luce per diretti e indiretti con un dimmero speciale per cui hai la memoria e è un dimmero semplice in modo che puoi avere il livello giusto in coppa in grigio e in grigio come vedete c'è una piccola tavola e una grande tavola tre dimensioni di sospensione con la scuola con la scuola un approcatenativo per diretti da questo ho avuto e gli Grazie.